Il Vasto Girardi centra il passaggio al tabellone principale, conquistando i 32esimi di finale dando continuità al successo nel turno preliminare contro i cugini del Termoli, con ulteriore successo al Ditella sulla Vastese per una rete a zero. La gara inizia con ritmi decisamente elevati sin dall'avvio, con Fiori che si fa pericoloso con un tiro che finisce oltre la traversa. Ma sono sempre i giallocelesti a farsi pericolosi al settimo con una punizione di Ruggeri che complice il pallone scivoloso mette in apprezzione il portiere della Vastese. Gli abruzzesi si rendono pericolosi tra il decimo ed il quindicesimo con un paio di incursioni che non vanno a segno. Due minuti dopo, su cross di Hernández Perez, Lorusso ed Antogiovanni finiscono per ostacolarsi e non trovare la porta. Al ventesimo Hernández Perez prova a mettersi in proprio al suo il tiro e rimpallato prima della fine del primo tempo. C'è spazio per altre occasioni degli alto molisani. Al ventisettesimo con Canale, al trentasettesimo con Hernández che non riesce a trovare il bersaglio grosso, al trentanovesimo sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa sono sempre i padroni di casa ad iniziare al meglio. Al quarantasettesimo il tiro di Hernández viene rimpallato. Tre minuti dopo si fa vedere Lorusso. Al cinquantasesimo è la Vastese a rendersi pericolosa con Busetto con un colpo di testa che finisce a lato. Ma la risposta dei padroni di casa è vehemente con Hernández al sessantesimo col pallone che finisce fuori e poi Canale al sessantasettesimo con un gran tiro parato da Pitarresi. Il subentrato Calemme poi è il gran protagonista di Frangente con un attraversone al sessantanovesimo che non ha grandi opportunità e dal settantanesimo con un gioco di gambe in aria che lo vede atterrato nel rettangolo difensivo avversario. Dagli 11 metri va Lorusso che realizza. L'Avastese a quel punto prova a rientrare cercando il pareggio in tutti i modi con tanto di nervosismo in campo e battibecchi tra calciatori che si sublimano dopo quattro minuti di recupero. Alditella è 1-0 Vasto Girardi.